Grazie a tutti. Allora, era tutto uno strano gioco. La stranezza era ad esempio nel fatto che il giovane, pur immedesimandosi a meraviglia nella parte del guidatore sconosciuto, non cessava di vedere nell'autostoppista la sua ragazza. Ed era proprio questo attormentarlo. Vedeva la sua ragazza intenta a sedurre uno sconosciuto e aveva l'amaro privilegio di essere lì presente, di vedere da vicino come lei si comportava e cosa diceva quando lo tradiva, quando lo aveva tradito, quando lo avrebbe tradito. Aveva il paradossale onore di essere lui stesso l'oggetto della sua infedeltà. La cosa peggiore era che, più che amarla, la adorava. Gli era sempre sembrato che l'essere di lei fosse reale solo entro i confini della fedeltà e della purezza. E che, al di là di quei confini, lei semplicemente non esistesse. Al di là di quei confini, lei avrebbe cessato di essere se stessa, come l'acqua, cessa di essere acqua, superato il confine del punto di ebollizione. Adesso, che la vedeva superare con naturale eleganza quello spaventevole confine, lo invase la rabbia. La ragazza tornò dal gabinetto lamentandosi. Un tipo laggiù mi ha detto «Combien, mademoiselle?». «Non se ne meravigli», disse il giovane. «In fondo sembra una puttana». «Lo sa che non me ne importa proprio nulla?». «Sarebbe dovuto andare con quel signore. In fondo ho qui lei. Beh, può andare con lui dopo di me, si metto d'accordo. No? Non mi piace. Non avrà certo obiezioni di principio ad avere più uomini in una stessa notte. Perché, purché no, se sono belli. Li preferisci a uno a uno o tutti insieme?». «In un modo che nell'altro», disse la ragazza. La conversazione stava diventando sempre più assurda. La ragazza ne era un po' sconvolta, ma non poteva protestare. «Anche nel gioco è in agguato per l'uomo l'obbligo. Anche il gioco è una trappola per il giocatore. Se non si fosse trattato di un gioco e lì ci fossero stati seduti davvero due estranei, già da molto l'autostoppista avrebbe potuto offendersi e andarsene. Ma dal gioco non c'è fuga. Una squadra non può fuggire dal campo prima della fine della partita. I pezzi degli scacchi non possono abbandonare la scacchiera. I confini di un campo di gioco sono insuperabili. La ragazza sapeva di dover accettare qualsiasi cosa proprio perché si trattava di un gioco. Sapeva che quanto più il gioco si fosse spinto in là, tanto più sarebbe stato un gioco. E lei, con tanta più docilità, avrebbe dovuto accettarlo. Ed era inutile chiamare in aiuto la ragione e far notare a quella sconsiderata dell'anima che doveva mantenere una certa distanza dal gioco senza prenderlo sul serio. Proprio perché era solo un gioco, l'anima non aveva timore, non si difendeva e vi si abbandonava narcotizzata. Il giovane chiamò il cameriere e pagò, poi si alzò e disse alla ragazza «Posciamo andare?» «E dove?» chiese la ragazza fingendo stupore. «Non fare domande spicciati», disse il giovane. «In che modo mi parla?» «Come una puttana», disse il giovane. Gianluca Ferrato, poiché Kundera non scrive in italiano, la traduzione del testo pubblicato per i tipi di Adelphi è di Giuseppe Dierna. Teresa Cremisi, il gioco è qualcosa da cui è impossibile uscire. Dunque, che vogliamo parlare? Di libertà e rigore nell'opera di Milan Kundera? Sono un po' intimidita perché abbiamo fatto più volte delle presentazioni insieme, ma su argomenti forse meno gravi, meno importanti, meno seri e argomenti che non davano timidezza. Questa sera io perlomeno, lei mai, ma io perlomeno sono un po' intimidita perché Milan Kundera non solo è, come sapete tutti, uno dei più grandi autori del secolo passato e di questo scorcio di secolo, ma è qualcuno la cui voce è sempre riconoscibile. Parleremo del perché è sempre riconoscibile ed è, per di più, oltre a essere un grande scrittore, qualcuno che ha capito l'epoca, l'ha strattonata, l'ha raccontata da punti di vista diversi, l'ha resa comica, ma ne ha capito il tragico. Questa è la ragione per la quale io perlomeno sono un po' intimidita, ma la mia compagna no. Non so Teresa, vuole parlare solo lei? Io faccio... Vuole dare lei l'interpretazione della serata? No, le lascio un po' di spazio. No, sul gioco. Il gioco, abbiamo scelto questo pezzo bellissimo, sono due fidanzati e a un certo punto giocano un gioco delle parti pericolosissimo. come sono sempre pericolosi i giochi fra amici o fra innamorati, perché portano a scivoloni, pendii, volgarità involontarie, volontarie, e a linee a mostrare linee di frattura. Ma l'abbiamo scelto anche perché è un pezzo esemplare, ce ne sono moltissimi nei libri di Kundera, di questo suo modo di raccontare. Si riconosce subito una pagina di Kundera proprio perché la libertà di composizione è assoluta. si sente la voce del protagonista, delle protagoniste, dei protagonisti, si sentono i loro ricordi, i loro sogni, ma poi l'autore si permette di parlare al posto loro, di commentare quello che loro stanno vivendo, di contraddire quello che stanno dicendo. e lui ha in questa sua libertà si avvicina a un genere che non è assolutamente in uso nello scorso secolo, nel novecento e nemmeno negli anni duemila, il genere picaresco. La questione del picaresco è chiaramente fondamentale in Kundera perché, un pochino perché se si legge questo suo diario di lettura, anche se si potrebbe dire che molti dei romanzi di Kundera sono diari di lettura, nel senso che Kundera è assolutamente un formidabile lettore di alcune cose. Kundera sostanzialmente dice che la vita umana, che è fatta di giri e di cose che tornano, non può essere assimilata a una marcia trionfale, ma può essere assimilata a un tema con variazioni. E questo tema con variazioni per Kundera è consustanziato nel romanzo dal genere picaresco. Questo pezzo che abbiamo scelto del gioco è per me particolarmente significativo, un po' perché leggere Kundera oggi, dove sostanzialmente non riusciamo neanche a capire le regole della democrazia e perché la democrazia è fatta talmente di regole che bisogna rispettare tutti e che la libertà consiste in una comunità quando si rispettano delle regole. E soprattutto leggere Kundera oggi, e probabilmente dipende dal fatto che Kundera è nato e cresciuto letterariamente in un regime totalitario, Kundera non fa altro che parlare di quanto l'ostensione della vita privata, nella quale oggi sostanzialmente viviamo tutti attraverso piattaforme social e viceversa, coincide, dice Kundera, nella traduzione italiana ancora di Antonio Barbato e di Giuseppe Dierna, con il campo di concentramento. Quello che a me però diverte e mi divertiva quando lo leggevo quest'estate e ne parlavo con Teresa Cremisi, è questa specie di abbattimento totale del solenne. Cioè Kundera non contempla che il solenne sia una dimensione dell'umano. Il riso sì, la dimenticanza sì, ma il solenne no. Adesso qual è il problema letterario che c'è dentro, diciamo, l'enigma letterario, non il problema che c'è dietro ai romanzi di Kundera, che se prendiamo per buona, e non vedo perché non dobbiamo prenderla per buona, la definizione che da Giorgio Gamben sia in categoria italiana che in Puccinella, divertimento per i ragazzi, di tragedia e commedia, Gamben dice che sostanzialmente la tragedia è qualcosa che comincia bene e finisce male, la commedia è qualcosa che finisce male e comincia bene. Quindi si può dire se un romanzo è comico o tragico, in exito. Adesso però qual è il problema? È che i romanzi di Kundera ricominciano sostanzialmente, si riaprono. I romanzi di Kundera sono in realtà un'opera unica, se voi leggete, saltate dal romanzo del libro del riso dell'oblio, il walser degli addi, eccetera, ritrovate una voce inconfondibile. Questa voce inconfondibile è una voce che rivendica la libertà dell'artista, il rifiuto di entrare in uno schema già preciso, già detto, già celebrato, il rifiuto della solennità e dell'ideologia, perché sono categorie ridicole, che sono facilmente distruggibili tutte e due, e l'uomo, il piccolo protagonista, la donna, la fidanzata, che viene costretta a un gioco crudele, il povero impiegato che si è permesso di scherzare e che viene poi cacciato via perché si è permesso uno scherzo di nessuna gravità, queste persone sono schiacciate dalla solennità, sono asserragliate dall'ideologia e il racconto di Kundera, le libera, diventano degli eroi, anche se non sono eroi tradizionali, diventano degli eroi della libertà. Io sento moltissimo un mimetismo tra la libertà che l'artista Milan Kundera, il letterato Milan Kundera, il grande lettore a ragione Chiara Milan Kundera, si permette con la forma romanzo. In realtà lui si permette di raccontare una storia, di complicarla con un'altra storia, di fermarsi un momento, di commentarla, di ritornare sul commento, di riderci sopra. E questo funziona sempre nei suoi libri e se funziona sempre è perché l'abilità dell'artista è tale che quando rileggerete, leggerete questi libri vi accorgerete di quanto la coerenza dello scrittore è forte. È sì una libertà, è sì una fantasia senza limiti, ma è all'interno di un quadro rigoroso. tornare diciamo alla libertà e al rigore e diciamo all'antisolennità c'è sono i personaggi che dicono spesso che sostanzialmente aiutare e salvare la vita sono perifrasi che hanno senso solo se uno fa il medico altrimenti la letteratura non salva la vita, la bellezza non salva la vita, niente salva la vita tramite se c'è il medico che c'è un problema e risolve. Ma ci sono delle cose che io che tra l'altro mi ricordano anche molto un modo di parlare di Teresa Cremisi c'è questo dall'ignoranza la traduzione di Giorgio Pinotti che dice a Yosef sfuggì il significato di quel gesto gli avvenimenti politici l'avevano colpito sia nel profondo sin nel profondo del cuore aveva vissuto un dramma amoroso o aveva avuto un infarto quindi in qualche modo come funziona anche la struttura narrativa è antimetaforica quindi sostanzialmente in Kundera quasi nulla è metaforico perché tutto passa per il corpo motivo per cui i romanzi di Kundera sono sensuali nel senso che se è vero che persona è quella cosa che si diceva in greco che parla la maschera attraverso la quale escono i suoni è vero che tutte le parole di Kundera non hanno solo una maschera è tutto un corpo intero dal quale escono i suoni e questo rende tutto molto avvincente ha ragione Teresa Cremisi quando dice che in fondo è tutto un unico grande romanzo ed è tutto un unico grande romanzo perché i personaggi in fondo da un romanzo all'altro si fanno eco si rincorrono si ricalcano e questo calcarsi fa sì che quei personaggi siano teofrastescamente caratteri e il carattere è della commedia adesso qual è la soluzione che Kundera dà per togliere la tragedia dice nella quale tutti quanti nasciamo e viviamo è sostanzialmente una rivoluzione della frivolezza che però adesso lei è stata più tempo in Francia che in qui qui la frivolezza è una parola molto bandita Teresa Cremisi gli intellettuali italiani sono tragici sostanzialmente non sono comici il comico non è visto come una categoria dello spirito né come un modo per speculare sulle cose quindi volevo capire visto che lei Teresa Cremisi non solo è una lettrice di Kundera ma è stata l'editore di Kundera è stata amica di Kundera quindi Teresa Cremisi ha davvero conosciuto Kundera fuori dalle pagine quindi le volevo le volevo chiedere qual è il suo rapporto col comico rispetto all'opera di Milan Kundera il suo rapporto col comico lo posso dedurre dai suoi libri e dalla frequentazione ma penso che il comico è la parola giusta più che la frivolezza più che la frivolezza lo dica ai suoi che hanno tradotto però cioè frivolezza è tradotto frivolezza lo dica ai suoi il comico il comico nasce nasce dallo sguardo irriverente di fronte a un'umanità che è schiacciata costretta dall'ideologia dal buonsenso dalle abitudini dal tragico della storia per cui una volta per tutti si dà per scontato che non possiamo influire sulla storia che la storia ci riserva sorprese crudeli ogni sabato ogni domenica che sulle quali non sappiamo che cosa succederà non possiamo influire eccetera ci rimane un piccolo terreno da una parte una piccola erba folle una piccola un piccolo giardino per giocare ed è quello dello scherzo del comico e il comico è un esercizio liberatorio per cui si ritorna alla libertà si ritorna al rifiuto della solennità al rifiuto dell'ideologia e alla voglia tremenda che hanno la maggior parte dei protagonisti di Kundera di scappare dalle gabbie in cui la politica e l'ideologia vogliono richiuderle Kundera scrive una cosa bellissima sull'ideologia perché dice che sostanzialmente l'unica cosa che mina in qualche modo l'ideologia ripetiamo sempre è un uomo cresciuto in un sistema in un regime totalitario del quale a un certo punto nota e qui ci potrebbe essere una discussione che dura giorni non so se volete restare giorni dove Kundera scrive che i regimi totalitari di sinistra i regimi comunisti non muoiono mai mentre i regimi totalitari di destra muoiono quando muore il dittatore che secondo me non è una cosa peregrina penso che sia stato sempre vero è giustissimo che cosa ne sarà del futuro non lo sappiamo eh no non credo che lo sappiamo c'è però questa cosa sul c'è stata anche Teresa Cremzi ha scritto su Le Point pronunciato bene un articolo un articolo in morte di Milan Kundera dove a un certo punto notava che in fondo il New York Times aveva aperto questa la sua la sua memoria del scrittore di Kundera sostanzialmente anche parlando della descrizione dei personaggi maschili e delle descrizioni dei personaggi femminili nei romanzi sì erano passate credo era passata un'ora dalla morte di Kundera quando un articolo sicuramente preparato prima uscì e apparve sui nostri schermi un articolo di grande imbarazzo in cui si diceva che era morto un grande scrittore grande scrittore con le banalità solite 40 traduzioni noto in tutto il mondo qualche film tratto dai suoi libri eccetera che però era stato veramente uno scrittore molto discusso nell'università perché più misogino di così non si poteva fare e elencava in modo ripeto molto imbarazzato delle scene non quella che vi abbiamo letto ma delle scene simili in cui la donna non era la donna dei libri di Milan Kundera non era messa in situazioni degne del sesso femminile il sesso femminile la donna era un po' ridicola presa in giro crudelmente ridotta ai suoi difetti e ai suoi pianistei fu un articolo che mi in un certo senso mi aprì gli occhi mi sconvolse su cose che già sapevo ma non a questo punto che la realtà dei libri di Kundera è che non solo le donne sono un po' irrise ma anche gli uomini gli uomini sono ridicoli vili traditori mentitori in realtà si poteva quello fu perdonato a Kundera non fu perdonato le donne vili mentitrici traditrici mentre mi ossessionavo su questa diciamo critica che viene mossa a Kundera ma non solo è stata mossa sui giornali americani statunitensi ma anche sui giornali in parte sui giornali italiani ho trovato questa cosa che mi è stata abbastanza illuminante sono due frasi una dall'immortalità che è tradotta Alessandra Mura l'altra dall'identità che è tradotta Diana Marchi dove nella prima diciamo parla una donna e dice questo non essere solidale con l'umanità è questa la sua posizione una cosa soltanto potrebbe fargliela cambiare l'amore per un uomo concreto così il destino degli altri non potrebbe esserle indifferente perché il suo amato dipenderebbe da quel destino ne farebbe parte lei allora potrebbe avere la sensazione che ciò che affligge gli uomini le loro guerre e le loro vacanze non siano affar suo donna che parla di uomo l'identità mentre lei si perdeva nelle sue buffe fantasticherie lui pensava che Chantal era il suo solo legame affettivo con il mondo quando sente parlare di carcerati o delle vittime di persecuzioni e carestie il solo modo che abbia per sentirsi personalmente dolorosamente toccato dalle sventure di quella gente è di immaginare Chantal al posto loro se gli parlano di donne stuprate durante una guerra civile è Chantal che lui immagina vittima di uno stupro solo lei e nessun altro riesce a scuoterlo dalla sua indifferenza appunto e solo attraverso di lei è capace di provare compassione quindi in realtà quello che fa Milan Kundera perché non osserva diciamo un essere umano nelle sue specifiche per tornare ai caratteri ma osserva un essere umano nelle sue relazioni e rispetto alle relazioni che tu sia una donna che parla che sia un uomo che parla il rapporto è completamente simmetrico tra l'altro per tornare a ciò che diceva Teresa Cremisi rispetto alle caratteristiche di viltà di menzogna di poca attitudine diciamo alla coerenza che hanno i personaggi di Kundera c'è da dire che in effetti essendo il coraggio l'unica forma di eleganza vera i personaggi di Kundera non sono coraggiosi sono eroi come diceva Teresa Cremisi prima per strani ecco e in effetti sono ridicoli la maggior parte dei personaggi di Kundera sono ridicoli e ci assomigliano tanto che il motivo zero per leggere Kundera andrebbe letto da tutti e da tutte è che sostanzialmente si capisce che gli esseri umani non fanno altro che lamentarsi per questioni d'amore noi ci lamentiamo e affliggiamo le persone tutti amici e meno amici con questioni d'amore questo perché come dice una mia amica che è una grandissima artista dice sempre ma perché il mio inconscio fa sempre lo stesso casting ecco leggendo Kundera si capisce perché il nostro inconscio fa sempre lo stesso casting comunque ha perfettamente ragione Chiara questo le relazioni amorose sono su camminano su una cresta da un lato c'è il ridicolo e il comico e dall'altro c'è il tragico che imprigiona per cui questa cresta è difficilissima da tenere e le relazioni amorose raccontate in tutti i suoi libri sono estremamente interessanti cioè si scopre moltissimo su di noi sulla vita sulla vita dei nostri amici e di quelli che vediamo leggendo questi personaggi che sono sempre un po' sforzati un po' caricatorali che devono scegliere di inventare la loro vita in ambiente ostile perché l'ambiente quello che è l'ambiente in cui viviamo in cui è vissuto l'uomo è sempre ostile all'inizio di del libro più celebre di Milan con l'insostenibile leggerezza dell'essere c'è una scena strepitosa così importante e così importante per me perché poi quando siamo un autore ci si accorge che un'influenza sulla propria vita ce l'ha è una scena indimenticabile Thomas uno dei due personaggi maschili importanti del libro e Teresa l'altro personaggio molto importante ce ne sono due maschili due femminili Thomas si rende conto che è innamorato guarda il muro dal di là di un cortile e si dice che il momento è giunto per la prima volta in vita sua dovrà far scegliere di vivere con una donna e che questa donna è Teresa e che è unica però qualcosa gli dice che forse non è vero forse si sta sbagliando forse non è vero niente forse è un'invenzione è un sogno non è innamorato e soprattutto non deve legarsi per la vita a una donna perché poi cosa varrà la sua vita in coppia rispetto alla libertà dell'uomo solo e mentre non sa se deve tuffarsi nell'amore o rimanere a guardare il suo muretto di fronte da solo l'autore si inserisce nel discorso e parla e qui abbiamo uno di questi esempi di libertà di composizione di Kundera ed è un esempio estrepitoso ve lo leggo non leggerò come te ma insomma leggo questa cosa se la prese con se stesso ma alla fine si disse che in realtà era del tutto naturale non sapere quel che voleva non si può mai sapere che cosa si deve volere perché si vive una vita soltanto e non si può né confrontarla con le proprie vite precedenti né correggerla nelle vite future è meglio stare con Teresa o rimanere solo non esiste alcun modo di stabilire quale decisione sia la migliore perché non esiste alcun termine di paragone l'uomo vive ogni cosa subito per la prima volta senza preparazioni come un attore che entra in scena senza aver mai provato ma come allora può avere la vita se la prima volta è già la vita stessa per questo la vita somiglia sempre a uno schizzo ma nemmeno schizzo è la parola giusta perché uno schizzo è sempre un abbozzo di qualcosa la preparazione di un quadro mentre lo schizzo che è la nostra vita è uno schizzo di nulla un abbozzo senza quadro e qui comincia la storia d'amore tra Thomas e Teresa che è raccontata con grande commozione nel libro per cui la cresta in cui si cammina da un lato il comico e dall'altro la tragedia qui dà i brividi di tragedia e di tristezza e di malinconia per non continuare con la malinconia perché ci sarebbe il modo di continuare sulla malinconia perché questa stessa scena del muretto viene ripresa in chiusura dell'Izzo Assinib e Leggerezza dell'Essere dove in dieci righe in dodici righe almeno della versione italiana sviluppa un po' meno del francese il Kundera spiega come nascono i personaggi romanzeschi potremmo leggere questo ma non leggiamo questo leggiamo invece come Thomas ha risolto la questione dell'amore per Teresa che è una cosa che andrebbe appesa scritto con la Z non è lei non è ispirato a lei il personaggio pensavo che fosse ispirato a lei troppo docile ma finta docile però comunque discussione senza fine sul personaggio di Teresa e Sabine un posto a Sabine nell'Izzo Assinib e Leggerezza dell'Essere comunque come Thomas risolve questo dilemma guardare il muro o stare con Teresa e questo non ci deve dire niente diciamo non è che Teresa è il muro però per dire e dice con quel dolce pensiero cominciò ad assopirsi e sulla soglia del sonno nello spazio incantato delle visioni confuse all'improvviso fu certo di avere appena scoperto la soluzione di tutti gli enigmi la chiave del mistero la nuova utopia il paradiso un mondo dove si è eccitati dalla vista di una rondine e dove lui avrebbe potuto amare Teresa senza essere disturbato dall'aggressiva idiozia del sesso punto si addormentò punto cioè quindi come vedete diciamo anche questo è anche c'è un andamento antisolenne anche nei grandi squarci malinconici che Kundera apre più volte nell'insostenibile leggerezza dell'estere nello scherzo nell'immortalità nel libro degli addi e nel nel waltzer degli addi se Gianluca Barbato vuole leggere un è scerto scusa va bene ti ringrazio è perché è la traduzione di Antonio Barbato ma non fu questa è diciamo ferrato questa cosa della tua amica che l'inconscio fa sempre lo stesso casting è bella è fantastica Elisabetta Benassi ecco diamo la paternità di questa cosa anzi la maternità bellissima allora questo è un pezzo dal waltzer degli addi che è una cosa secondo me bellissima questo è un pezzo bellissimo un libro violentissimo diciamo sulla maternità sulla gestazione per altri e su quello che Paul Presiado chiama la necropolitica dei farmaci ma siamo diciamo in un'altra epoca e con altre idee il fatto che le avesse portato i fiori quella sera non significava necessariamente che il giorno dopo non ci sarebbe stato ma le diffidenti antenne della moglie sempre allerta sempre gelosa sapevano intuire con grandissimo anticipo la minima intenzione nascosta del marito ogni volta che clima avvertiva l'esistenza di quelle terribili antenne che lo mettevano a nudo lo spiavano lo smascheravano veniva inevitabilmente assalito da un senso di stanchezza le odiava quelle antenne ed era convinto che se c'era qualcosa che minacciava il suo matrimonio erano proprio loro era sempre stato persuaso e su questo punto aveva la coscienza bellicosamente pulita che se qualche volta gli capitava di mentire alla moglie era solo perché voleva risparmiarla metterla al riparo da qualunque motivo di inquietudine e che era lei con i suoi sospetti a procurarsi sofferenze la guardava in faccia e vi leggeva il sospetto la tristezza il cattivo umore fu sul punto di gettare per terra il mazzo dei fiori ma si controllò sapeva che nei giorni successivi avrebbe dovuto dominarsi in situazioni ben più difficili ti secca che ti abbia portato i fiori stasera disse sentendo l'irritazione nella sua voce la moglie lo ringraziò e andò a riempire un vaso d'acqua maledetto socialismo disse poi clima perché sta a sentire ci obbligano sempre a suonare gratis una volta in nome della lotta contro l'imperialismo un'altra per l'anniversario della rivoluzione un'altra ancora per il compleanno di qualche pezzo grosso e se non voglio che liquidino il complesso mi tocca sempre accettare non hai idea di come mi sono arrabbiato oggi ma che è successo chiese lei senza interesse mentre provavamo è venuta un'incaricata del comitato nazionale si è messa a spiegarci quello che dobbiamo e quello che non dobbiamo suonare e alla fine ci ha costretto a organizzare un concerto gratuito per l'unione della gioventù ma il peggio è che domani devo perdere tutta la giornata per una stupida conferenza in cui ci parleranno del ruolo della musica nell'edificazione del socialismo una giornata rovinata completamente rovinata è proprio il giorno del tuo compleanno beh ma non dovrai restare lì anche la notte no questo no ma pensa in che stato tornerò per questo volevo starmene un po' tranquillo con te almeno stasera e così dicendo prese per mano la moglie è gentile disse la signora Climova e da come lo disse lui capì che non credeva a una sola parola di quanto l'aveva appena detto sulla conferenza dell'indomani naturalmente la signora Climova non osava far vedere che non gli credeva sapeva che la sua sfiducia lo faceva arrabbiare ma già da tempo Clima aveva smesso di aver fede nella credulità della moglie che dicesse la verità o mentisse la sospettava sempre di sospettarlo ma adesso non c'era nulla da fare doveva continuare a parlare fingendo di credere che lei gli credeva e lei con un volto triste ed estraneo gli faceva domande sulla conferenza dell'indomani per provargli che non dubitava della sua esistenza il fondo queste scene sono sempre delle scene di teatro in cui ogni personaggio assume un ruolo non riesce ad uscirne viene ridicolizzato dagli eventi non capito e qui è la vena malinconica Europa dell'Est eccetera fortissima malinconicissima di chi non sa assolutamente di che cosa la vita gli riserverà per cui siccome non si possono è la cosa che Kundera dice ad ogni pagina non si può influire sull'avvenire non si può influire sul corso della storia non si può influire sulla stupidità umana non si può influire sulle convenzioni le più le più che rendono più prigionieri a questo punto cerchiamo di ridere sarebbe meglio ridere in due o in tre ma spesso si costretti a ridere da soli è vero che Kundera lega il riso a una caratteristica dell'umano quindi è una fuga è una fuga il termine diciamo secondo me corretto è assonante a un'altra interpretazione che è possibile dare o inferire nella struttura dei romanzi di Kundera che è infarcita alcuni romanzi più di altri chiaramente di analisi musicali perché prima ovviamente parliamo del picaresco come tema e variazioni ma in realtà i libri di Kundera sono romanzi che girano intorno a temi e questi temi possono essere sentimenti come il sentimento principale sostanzialmente il tradimento perché questo forse lo possiamo dire con grande e anche il non poter essere lasciati liberi e felici sulla strada del tradimento quindi il fatto che il tradimento in fondo non cancelli tutto il resto questo un po' si lamentano tutti ma perché non posso tradire senza niente e l'altro diciamo altri temi possono essere liberi perché c'è la lentezza che è tutto intorno un incastro una variazione intorno a quand'è l'endement di Vivant Denon anche questo nel catalogo Adelfi oppure l'ignoranza che è una variazione e una discussione sull'odissea che è forse quello più specifico sul tema dell'esilio ma c'è una frase nello schermo nello scherzo sulla sulla solennità e sulla mancanza di quanto la solennità non sia solo antiumana ma quanto sia umano il riso lo scherzo e quanto sia umano capire sfottendo sostanzialmente e cosa che non si può fare in regime il libro del 67 lo scherzo e dice non è che all'epoca godessi di un successo incondizionato dice il personaggio perché i miei scherzi erano troppo poco seri mentre la gioia di quell'epoca non amava le buffonate e l'ironia era una gioia come ho detto seria e si freggiava con orgoglio del titolo di ottima gioia della classe vittoriosa una gioia ascetica e solenne insomma e scrive tutto grande la gioia tutto grande quindi le lettere maiuscole chiaramente dall'epigrafia romana fino alla pubblicità oggi la pubblicità è un altro grandissimo tema dei romanzi di Kundera perché sono gli magologi che fanno lì e che decidono tutto però la questione diciamo dei temi e qui forse vorrei che Teresa Cremi ci dicesse anche dell'esilio per Kundera che sta appunto al centro dell'odissea e dell'ignoranza e della vita diciamo Milan Kundera medesimo era un esiliato in patria perché doveva non ridere delle ridicolaggini che i regimi successivi gli facevano imponevano e a un certo punto della sua vita tardi tardi non parlava quasi altre lingue lasciò Praga e partì per la Francia i francesi lo consero a braccia aperte trovarono un lavoro diventò professore all'università di Rennes e cominciò ad amare pazzamente questo suo nuovo paese a un punto in cui vedeva delle bellezze qui parlo dell'uomo e non dello scrittore vedeva delle bellezze meravigliose le donne erano più belle le città erano meravigliose la lingua francese era diventata per lui lo scrisse così era diventata per lui come Greta Garbo la amava come un adolescente amava un'attrice gli sembrò e sembrò a sua moglie vera erano una coppia molto romanzesca e sembrò a sua moglie vera di vivere in un sogno e poi questo sogno si stemperò e cominciò a guardare il nuovo paese con un altro sguardo e gli successe quello che succede a quasi tutti gli esiliati non stavano bene a casa loro sono dovuti partire e lasciare dietro tutto con un certo slancio e una certa soddisfazione e poi a poco a poco quello che è la nuova vita questo entusiasmo si placa addirittura si capovolge e l'esilio a quel punto è completo non si può tornare indietro si deve stare nel nuovo posto non corrisponde a quello che immaginavamo non si ride delle stesse cose l'esilio si chiude completamente a quel punto non rimane un artista che cosa rimane una sola cosa da fare lavorare e Milan Kundera nel momento in cui ci fu questo capovolgimento in cui il paese lasciato ormai era proprio un passato irrecuperabile ma quello nuovo non corrispondeva più tranne la lingua non corrispondeva più al suo sogno rimase soltanto un piccolo alune di luce nel quale viveva e lavorava e scambiava con pochi amici lavorava mattina sera pomeriggio in continuazione e come dice giustamente Chiara Valerio e non lo dice non lo dice molta gente per cui veramente è importante è stato un lettore eccezionale un lettore che andava a cercare le cose che gli piacevano e gli erano congeniali tutto il settecento un po' del seicento tutto quello che è piccaresco tutto quello che era un romanzo epistolare perché anche quello permette una libertà di forma strepitosa e allo stesso tempo la curiosità del mondo che della vita moderna è vero la pubblicità rideva delle trasmissioni radiofoniche con le voci sovrecitate delle speaker rideva dei film che in pratica non facevano ridere nessuno perché erano tragici alla fine c'è l'artista si è richiuso su se stesso ma le sue opere sono diventate sempre più forti questo volevo dire volevo dire che anche lei ride di cose di cui non ride nessuno che sostanzialmente sono tragiche ma non importa no volevo dirle una cosa che non so è che mi è venuto adesso un flash mentre diceva questa cosa di Greta Garbo che non so se mi ha raccontato lei o se ho letto in fondamenta degli incurabili di Broski quando a un certo punto gli chiedono com'è New York e gli dice come è Greta Garbo nel bagno mi ha raccontato lei? no non glielo ho raccontato e allora sta in fondamenta degli incurabili c'erano solo queste due possibilità riguardo però all'esilio libro dell'89 riguardo all'esilio però c'è questa cosa che è molto scioccante che sta ancora nell'ignoranza c'è quello di Josef prima che non sapeva se aveva avuto un turbamento amoroso o un infarto che tra l'altro è una cosa che scrive Virginia Woolf in tra un atto e l'altro quando a un certo punto dice Jakob sta attraversando il suo momento migliore punto speriamo che non gli prenda un colpo poco dopo l'89 Josef aveva ricevuto in Danimarca sta parlando di un uomo che non si è trasferito in Francia ma in Danimarca un pacchetto di fotografie che raffiguravano i nuovi quadri del pittore dipinti questa volta in piena libertà erano identici a milioni di altri quadri che allora si dipingevano nel mondo il pittore poteva vantarsi di una duplice vittoria era totalmente libero e totalmente uguale agli altri che è la cosa diciamo che ancora rispetto alle regole del gioco che non può uscire e rispettare così c'è quel rischio in qualche modo di uniformità rispetto al lettore formidabile di cui discettavamo prima con Teresa Cremisi c'è un pezzo stupendo nell'immortalità dove Agnes che è questo personaggio che lui incontra esattamente come ha incontrato Thomas davanti a un muro incontra Agnes che sta andando in piscina e a un certo punto dice se all'uomo non è dato vivere con la persona amata e sottomettere tutto all'amore allora gli resta un altro modo per sfuggire al creatore andare in convento Agnes ricorda una frase della Certosa di Parma di Stendhal si ritirò nella Certosa di Parma Fabrizio se ne andò si ritirò nella Certosa di Parma fino a quel punto nel romanzo non si era mai parlato di nessuna Certosa eppure quest'unica frase nell'ultima pagina è così importante che Stendhal ne ha fatto il titolo del suo romanzo perché la vera meta di tutte le avventure di Fabrizio del Dongo era la Certosa un luogo distaccato del mondo e dalla gente io quando l'ho letto ho pensato ma veramente non è nominata prima la Certosa di Parma e poi tragicamente stacco c'ha ragione Milan Kundera non c'è non c'è chi se lo ricordava? se lo ricordava lei signora? lettrice formidabile quindi di onoraria stasera lo dice anche Balzac signora nella sua lunga cosa non la signora ma anche Balzac ah Balzac è la signora vabbè vuole fare un complimento alla signora va bene quindi diciamo la i tè ci preoccupavamo in treno che ci fossero molte cose troppe cose da dire su Milan Kundera lei però adesso non la vedo preoccupata no no adesso mi sono rilassata grazie a voi vuole parlare di qualche altro tema? volevo dire una cosa perché abbiamo insistito sulla libertà di forma che lui utilizza in tutti i suoi libri ed è una libertà strepitosa che discende direttamente da Cervantes Diderot eccetera e anche dal capolavoro di Diderot Giacomo il fatalista è suo padrone questa libertà di forma che gli permette tutto delle digressioni comiche delle digressioni sapenti delle cose filosofiche musicali perché è molto musicale e suo padre era un grande musicista ginecologiche qualsiasi cosa è permesso al romanziere potrebbe venire in mente che a quel punto tanta dispersione faccia perdere la testa e faccia pensare a un vero disordine eppure no eppure no per un qualche miracolo il rigore del quadro incanala questa libertà e la rende del tutto armoniosa armonica è veramente un miracolo di un grande scrittore come mai tutti questi elementi così disparati riescono a fondersi senza pesare l'uno sull'altro senza rendere zoppa la costruzione è abbastanza miracoloso ecco un miracolo letterario la questione diciamo della forma romanzo è interessante in sé perché chiaramente il romanzo al quale tutti noi immaginiamo quando parliamo di romanzo è il maledetto romanzo dell'ottocento cioè sostanzialmente di campo aperto o stanza chiusa è un romanzo di immaginazione i riferimenti formali di Kundera sono precedenti quindi la cosa più simile come miscellanea di forme di pensamento come il romanzo utilizzato come unica forma speculativa possibile per comprendere l'animo umano senza fare il pippone ma facendolo capire è chiaramente la cosa più vicina esterna che è un riferimento grosso di Kundera oltre a tutti diciamo i riferimenti di Aria Slava tra cui Spicca Gombrowicz ed è un lettore talmente straordinario Kundera che in un pezzo dell'immortalità che è la parte in cui Goethe e Hemingway si trovano nell'oltremondo perché ovviamente Kundera dice uno si può dimenticare non può evitare la propria morte può pensare che non ci sia ma soprattutto la cosa inevitabile e questo è il problema sia di Goethe che di Hemingway è l'immortalità quando deve spiegare l'amore feroce aggressivo predatorio di Bettina Brentano per Goethe lui che cosa fa prende pornografia di Gombrowicz e questo avevo avuto un'intuizione leggendolo ma poi sono andata a riprendere e lo ribalta cioè non sono i due vecchi che stanno lì a cercare di fare di mettere insieme i due giovani e farle lasciare il ragazzo ricco e farla mettere con il ragazzo povero con il garzone è Bettina che cerca di far lasciare Goethe con la moglie senza volergli dare niente in cambio ed è l'unico vero crescendo in senso musicale dell'opera di Kundera l'amore tra Bettina e Goethe perché poi altri crescendo non ce ne sono sono tutti smorzando sono tutti diminuendo sono tutti che vanno in quel verso della solennità e della libertà e del rigore di cui intorno ai quali stiamo girando l'unico vero romanzo picaresco che Kundera vivente si perde e non mette nel canone europeo del picaresco è Orlando di Virginia Woolf lui non la prende questa cosa mai letto è strano però forse cosa avete fatto nei diure francesi avete tradotto tardi no ma si vede che non si è avvicinata a Virginia Woolf non lo so sarebbe stata la sua scrittrice preferita probabilmente perché c'è no non lo so no no perché c'è c'è qualcosa che probabilmente Kundera non avrebbe capito come lei vede in quasi tutti queste scene la sfumatura non esiste la sfumatura non esiste i personaggi sono personaggi che parlano tra di loro e si imbattono in situazioni che non capiscono perché il mondo è disordinato il mondo è caotico il mondo è incompressibile ridiamo del mondo ma la sfumatura la Virginia Woolf secondo me o gli ha fatto paura e non si è avvicinato proprio o non ha capito che può succedere però lei può scoprire se c'è nella biblioteca di Kundera Virginia Woolf non c'è lei basta che fa una telefonatina ora si allontana un attimo telefona e noi sappiamo se ce l'ha perché dobbiamo parlare accademicamente di una cosa che possiamo sapere secondo me non c'è secondo me non c'è vedremo vedremo comunque lei ha detto che il libro più se ho ben capito più piccaresco di tutti è l'immortalità è quello che è la forma più miscellanea diciamo settecentesca del romanzo è quella in cui io penso di sì penso che penso che Chiara Valeria abbia ragione anche stavolta è un libro zeppo di fuochi d'artificio di questo genere si va avanti si torna indietro parla Hemingway discute con Goethe si torna e succedono delle cose che sono piacevolissime perché risvegliano nel lettore delle cose che sa o non sa e gliele accosta in modo sempre sorprendente io volevo far leggere al nostro meraviglioso attore questo pezzo dell'immortalità che è molto breve Teresa Cremisi perché non ha letto prima allora ha letto prima è un suo scherzo questo fa leggere ovviamente quando un uomo è dotato per un'attività che ha già suonato la mezzanotte o che non ha ancora suonato la prima ora che ne è del suo talento si trasforma si adatta Cristoforo Colombo diventerebbe direttore di una compagnia di viaggi Shakespeare scriverebbe sceneggiature per Hollywood Picasso disegnerebbe cartoni animati oppure tutti questi grandi talenti si tirerebbero in disparte se ne andrebbero per così dire nel convento della storia pieni di una cosmica delusione per essere nati nel momento sbagliato fuori dall'epoca che era loro fuori dal quadrante del tempo per cui erano stati creati abbandonerebbero il loro talento anacronistico come Rimbaud abbandonò a 19 anni la poesia è così vero è così triste che ne è di un Vivaldi che nascerebbe oggi in una città italiana che ne sarebbe forse nessuno gli insegnerebbe la musica forse farebbe altre cose forse lavorerebbe in un in un gruppo rock ma non sarebbe più Vivaldi per cui questa impressione che tutto è fragile e che i grandi successi della mente umana succedono perché la combinazione del caso e del momento è talmente imprevedibile è talmente improbabile che povero uomo che peccato quanto talento buttato via quante ideologie a schiacciare il talento quanta tristezza quante guerre a uccidere delle vite talentuose e questo è sempre presente nelle opere di Milan Cuda ma soprattutto nell'immortalità dove si passa da una tristezza a una milanconia a un grande riso perché in fondo non c'è nient'altro da fare Teresa scusi una domanda cattiva prima di lasciare leggere un pezzo dall'immortalità a Gianluca Ferrato le volevo dire questa cosa ma lei che è già pubblicato nell'89 lei arriva a Gallimarle arriva come primo manoscritto per benvenuto l'immortalità di Kundera e lei lo pubblica oggi le arriva l'immortalità di Kundera dove nelle prime cinque righe c'è Wittgenstein Beethoven il senso della storia e come mi sento male oggi lei che fa? Allora si pubblica senza senza fiatare vabbè benissimo questo è una cosa che ci pubblica senza fiatare mi raccomando si pubblica senza fiatare sai là dove devi mandare lì allora è stato già comprato da un'altra casettrice di cui editor è presente in questa stanza non sono io allora prima di lasciare a Gianluca l'immortalità volevo dirvi la cosa che mi ha fatto più ridere di tutti i libri di Kundera che ho letto da quest'estate a oggi ed è questa penso dunque sono è la frase dell'intellettuale che sottovaluta il mal di denti sento dunque sono è una verità di portata molto più generale e che riguarda tutto ciò che è vivo il mio io non si differenzia sostanzialmente dal vostro per quello che pensa tanta gente pochi pensieri tutti pensiamo più o meno le stesse cose e ci passiamo a vicenda le idee cioè le prestiamo le rubiamo però quando uno mi pesta un piede il dolore lo sento solo io il fondamento dell'io non è il pensiero è la sofferenza che è il più fondamentale di tutti i sentimenti nella sofferenza neanche un gatto può dubitare del suo io inconfondibile nella grande sofferenza il mondo scompare ognuno di noi è solo con se stesso la sofferenza è l'università dell'egocentrismo e niente Gianluca Ferrato vuole leggere l'ultimo pezzo dall'immortalità il libro che Teresa Cremi si ripubblicherebbe senza fiatare anche oggi allora questo pezzo è magnifio grazie non l'ho scritto io però l'abbiamo scritto l'abbiamo scelto l'abbiamo scelto questo è debesissimo è un pezzo Teresa l'ha scelto già nell'89 io sono andato un po' più trafico diciamo e sbagliavi disse Paul una sciagura ferroviaria è orribile per chi è sul treno o per chi ha un figlio e sul treno ma nel giornale radio la morte ha esattamente lo stesso significato che ha nei romanzi di Agatha Christie la quale tra parentesi è la più grande maga di tutti i tempi perché ha saputo trasformare l'assassinio in divertimento e non un assassino soltanto ma decine di assassini centinaia di assassini assassini in serie commessi per la nostra gioia nel campo di sterminio dei suoi romanzi Auschwitz è dimenticato ma dai crematori dei romanzi di Agatha il fumo sale eternamente verso il cielo e solo un grande ingenuo potrebbe affermare che è fumo di tragedia l'orso rammentò che proprio con questo tipo di paradossi Paul influenzava ormai da tempo tutta la redazione la quale quando gli magologi avevano puntato su di lei il loro funesto sguardo gli aveva offerto un appoggio molto debole perché in fondo giudicava antiquata la sua posizione l'orso si vergognava di avere finito per cedere ma nello stesso tempo sapeva che non gli restava altro da fare simili compromessi forzati con lo spirito dei tempi sono cose banali in fide conti necessari se non vogliamo chiamare allo sciopero generale tutti quelli a cui non piace il nostro secolo nel caso di Paul però non si poteva parlare di compromesso forzato Paul correva a donare al suo secolo la propria arguza e la propria intelligenza spontaneamente e per i gusti dell'orso con troppa foga perciò gli rispose in tono ancora più gelido anch'io leggo Agatha Christie quando sono stanco quando voglio tornare per un attimo bambino ma se ogni momento della vita si trasforma in un gioco da bambini verrà il giorno che il mondo morirà sotto i nostri allegri balbetti e le nostre risate Paul disse preferisco morire con l'accompagnamento di un balbettio che non con quello della marcia funebre di Chopin e ti dirò una cosa il vero danno sta nella marcia funebre che è una glorificazione della morte se ci fossero meno marce funebri forse anche le morti sarebbero di meno senti capiscimi bene il rispetto per la tragedia è molto più pericoloso della spensieratezza del balbettio infantile ma ti rendi conto di qual è l'eterno presupposto della tragedia l'esistenza di ideali che sono considerati più preziosi della vita umana e qual è il presupposto delle guerre la stessa cosa ti mandano a morire perché esiste pare qualcosa di più grande della tua vita la guerra può esistere solo nel mondo della tragedia fin dall'inizio della storia l'uomo non ha conosciuto che il mondo tragico e non è capace di uscirne l'età della tragedia può avere fine solo con una rivolta della frivolezza la gente oggi della nona di Beethoven conosce solo le quattro battute dell'inno alla gioia che sente ogni giorno con la pubblicità del profumo bella questo non mi scandalizza la tragedia verrà scacciata dal mondo come una vecchia attrice scadente che si porta le mani al cuore e declama con voce roca la frivolezza è una radicale cura dimagrante le cose perderanno il 90% del loro senso e diventeranno leggere in tale atmosfera a gravità zero il fanatismo sparirà la guerra diventerà impossibile sono lieto che tu abbia trovato finalmente il modo per eliminare le guerre disse l'orso ma riesci a figurarti la gioventù francese che va a combattere per la patria orso la guerra in Europa è già diventata impossibile non politicamente antropologicamente impossibile la gente in Europa non è più capace di fare la guerra non ditemi che due persone in profondo disaccordo tra loro possono comunque amarsi sono frottole per bambini forse potrebbero amarsi se tacessero le loro opinioni o ne parlassero solo in modo scherzoso sminuendone così il significato del resto in questo modo si erano parlati finora Paul e l'orso ma una volta scoppiato il conflitto è troppo tardi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti